128 uomini in una trappola di ghiaccio nella lunga notte artica, anni di isolamento, due navi abbandonate, una marcia disperata per la sopravvivenza e nessun superstite. Oggi vi racconterò una delle storie di mare più sinistre e impressionanti di tutti i tempi, rimasta per un lungo periodo avvolta nel mistero, quella dell'Erebus e della Terror, la spedizione Franklin alla ricerca del passaggio a nord-ovest. State ascoltando tra il dire e il mare, in ogni puntata di questo podcast vi racconterò la storia di un disastro navale e il modo in cui quella storia ha preso vita tra fiction e realtà, restando scolpita nel nostro immaginario in modi diversi e spesso imprevedibili. 19 maggio del 1845, dal porto di Greenit in Inghilterra salpano sotto il comando di Sir John Franklin due navi, l'ammiraglia Erebus e la Terror. Non sono due navi qualsiasi, per l'epoca sono lo stato dell'arte. Sono state attrezzate con i migliori ritrovati tecnologici per affrontare le condizioni estreme e i pericoli di un lungo viaggio in Artico. Sono già tornate con successo da una precedente esplorazione scientifica in Antartide, dove l'allora comandante Ross si è divertito ad affibbiare nomi smaccatamente autocelebrativi a ogni dettaglio paesaggistico che incontrava, dall'isola Ross, ebbene sì ha dato il suo nome a un'isola, al monte Erebus, proprio come la sua nave. L'avventura che aspetta l'Erebus e la Terror questa volta è ancora più pericolosa. Si tratta dell'ennesimo viaggio alla ricerca del passaggio a nord-ovest, una via d'acqua libera che colleghi da nord l'oceano atlantico con l'oceano pacifico. Trovare una via del genere consentirebbe di velocizzare notevolmente gli spostamenti marittimi. Si parte a maggio perché, ovviamente, ammesso che questo passaggio esista, l'unico momento utile per attraversarlo è quello estivo, quello cioè in cui la superficie del mare non è coperta dal bac, uno strato di ghiaccio che rende impossibile la navigazione. Il leggendario passaggio a nord-ovest verrà effettivamente scoperto poco tempo dopo, ma non dalla spedizione Franklin. Concentriamoci per un momento su quella che era la tecnologia a porto dell'Erebus e della Terror, perché un tratto in comune che hanno molte di queste storie è la percezione di sicurezza. La consapevolezza di trovarti a bordo di quello che è un gioiello ingegneristico del tuo tempo può portare a sottovalutare dei rischi nella scelta delle rotte. Una dinamica mentale che, credo, non cambi mai. Immagino che tra cento anni gli uomini del futuro si sorprenderanno di quanto fossero poco sicuri i mezzi di trasporto che utilizziamo oggi. Me li vedo, me li vedo a chiedersi, ma ti rendi conto che questi giravano in auto? Vediamo allora quali sono nel dettaglio queste innovazioni tecnologiche che si trovavano a bordo delle due navi. Prima di tutto c'era un sistema di riscaldamento a vapore molto innovativo per l'epoca che consentiva agli uomini di affrontare meglio le proibitive temperature artiche. Le prue dell'Erebus della Terror avevano poi dei rinforzi in ferro pensati apposta per fendere gli strati più sottili di pack. Inoltre le due navi, grazie alla spinta dei motori a vapore, potevano navigare anche in assenza di vento. Figata direte voi, quindi il pack non è un problema, il pack lo fanno a fette. Eh, ghi, insomma, perché per alimentare il motore a vapore e quindi far muovere la nave anche attraverso uno strato sottile di pack erano necessarie enormi quantità di energia e quindi di carbone. Carbone che, come abbiamo appena visto, serviva anche per il sistema di riscaldamento a bordo. Il carbone in stiva occupa spazio, mica ti puoi portare dietro un'intera miniera di carbone e che cosa fai quando il carbone scarseggia? Ti muovi di un metro sul pack sottile oppure ti scaldi per una settimana? Il sistema FEN di ghiaccio a bordo della nave era ancora troppo arretrato per permettere di affrontare seriamente un viaggio del genere e soprattutto troppo antieconomico nell'utilizzo delle scarse risorse di bordo, nella fattispecie in questo caso il carbone. Era più pensato come un sistema di emergenza, ci leviamo da questo breve tratto di pack convinti di trovare pochi metri più avanti mare aperto in cui navigare. Altri ritrovati moderni presenti sulla nave erano un rudimentale sistema di desalinizzazione dell'acqua di mare e le provviste confezionate in scatolame. A bordo c'erano 8.000 razioni di cibo in scatola sufficienti a nutrire l'equipaggio per tre anni di navigazione quindi per un lungo periodo e che essendo sigillate avrebbero dovuto conservarsi intatte. In scatolare la roba da mangiare era una pratica molto sensata ma abbastanza nuova che presentava ancora diversi problemi di igiene e di conservazione degli alimenti e per l'appunto questi due stratagemmi cioè l'impianto di desalinizzazione da una parte e lo scatolame dall'altra presentavano un problema, lo stesso problema e cioè il piombo. Il piombo dell'impianto contaminava l'acqua e le latte con le razioni di cibo erano state sigillate in fretta e furia proprio con il piombo. L'appalto per i viveri era stato assegnato all'azienda con i costi più bassi e la consegna era stata data all'ultimo quindi questa azienda per garantire i tempi di consegna si era vista costretta a sigillare queste 8.000 latte molto velocemente e il piombo fuso che veniva usato per sigillarle era colato a contatto con gli alimenti. Bere e mangiare per anni alimenti contaminati porta all'avvelenamento da piombo un fenomeno per niente carino con sintomi come alterazioni della personalità, cefalee, debolezza, anemia, nei casi più gravi problemi motori e anche morte. Teniamolo a mente perché il piombo in questa storia non ha certo aiutato. La spedizione Franklin viene avvistata per l'ultima volta da delle baleniere nella baia di Baffin ad agosto quindi un paio di mesi dopo la partenza e poi sparisce nel nulla. I tempi di attesa erano lunghi era stato assolutamente previsto che magari le navi non sarebbero riuscite a trovare il passaggio a nord ovest nella prima estate e quindi le provviste a bordo giustamente bastavano per un massimo di tre anni. Dopo che due di questi anni sono trascorsi senza che ci siano stati avvistamenti senza che ci siano state notizie di alcun genere la signora Franklin la moglie del comandante si adopera attivamente affinché vengano organizzate delle spedizioni di soccorso perché è chiaro che suo marito e i suoi uomini sono rimasti intrappolati nel ghiaccio un inverno di troppo. In soccorso dell'Erebus e della Terror vengono mandate diverse spedizioni ma ancora per anni non se ne saprà nulla. Le due navi sembrano sparite sembrano inghiottite dal ghiaccio e dal buio dell'inverno artico. Solo dopo il 1850 e quindi più di cinque anni dopo la partenza alcune spedizioni via mare e via terra iniziano a riportare a casa dei frammenti dei brandelli di quella tragica storia raccogliendo le testimonianze delle popolazioni inuit che abitano coi territori e ritrovando dei reperti prelevati chiaramente dall'Erebus e dalla Terror. Gli equipaggi a quel punto vengono ufficialmente dichiarati morti in missione ma ci vorranno ancora dei secoli per ricostruire quella storia per intero. Pensate che i resti di alcuni dei membri dell'equipaggio sono stati ritrovati solamente negli anni 80 ma non dell'ottocento del novecento e che per esempio la nave Terror il relitto della nave Terror è stato rinvenuto soltanto nel 2016 quindi praticamente l'altro ieri. Da qui in poi però noi la storia faremo finta di conoscerla già anche se la sua ricostruzione come dicevo è stata lenta e progressiva. Tenete presente lo abbiamo dato per scontato non lo abbiamo detto ma le comunicazioni all'epoca erano analogiche molto analogiche. I messaggi firmati dagli ufficiali di mordo con tutte le informazioni sulla spedizione e le coordinate a cui si trovavano le due navi sono stati ritrovati sotto a dei Cairn sull'isola di Reguglielmo. I Cairn sono sostanzialmente dei tumuli di pietra chiaramente identificabili da lontano come costruiti dall'uomo. queste costruzioni venivano erette proprio con lo scopo di segnalare che sotto quel Cairn era stato nascosto qualcosa. Erano un modo per dire siamo stati qui abbiamo navigato a queste coordinate abbiamo lasciato qui delle provviste abbiamo bisogno d'aiuto e siamo qui. La tecnologia si fermava lì non c'era un modo più veloce di mandare un SOS o di segnalare la propria posizione a eventuali soccorritori costruivi un moretto di pietra e incrociabile dita perché qualcuno ci passasse e lo notasse. Oggi ci sembra assurdo ma all'epoca venivano condotte in un modo pericolosamente simile anche delle ricerche scientifiche per esempio le ricerche sulle mappature delle maree. Si affidavano al mare dei messaggi in bottiglia o qualcosa del genere con le coordinate e la data dell'abbandono. Tra i documenti all'interno di queste bottiglie c'erano anche delle lettere in cui si invitava chiunque le avesse ritrovate di segnare sul foglio le coordinate e la data del ritrovamento e di rispedire tutto all'istituto di ricerca che con questi dati avrebbe poi provveduto a misurare le correnti oceaniche, a tracciare le correnti oceaniche. Praticamente era la moderna citizen science ma traslata nel 1800 e tutto questo presuppone una fiducia nell'umanità che mi commuovo un sacco ve lo dico. Chiudendo questa breve parentesi felice e tornando alla nostra storia tristissima ecco quello che è successo. Nell'estate del 1845 le due navi non trovano una via d'acqua libera quindi si ritirano, trovano riparo in un'insenatura dell'isola di Bici dove trascorrono il primo inverno per restare al riparo dal vento e naturalmente anche dal pack. Alla primavera successiva le due navi ripartono, nuovamente non trovano una via d'acqua libera e si riparano questa volta in un'insenatura dell'isola di Reguglielmo. A questo punto tenete presente che molti uomini dell'equipaggio erano già morti, chi di tubercolosi, chi di scorbuto e si facevano sentire anche i primi sintomi dell'avvelenamento da piombo. Con l'ultimo tentativo di trovare il passaggio però le cose vanno ancora peggio e l'erebus e la terror si ritrovano nella situazione più inquietante e spaventosa che un marinaio possa immaginare. Franklin contando sulla tecnologia delle due navi è convinto quest'anno di poter sfondare lo strato sottile di ghiaccio che si trova davanti e che oltre quello che vedono troveranno finalmente dell'acqua libera, del mare libero per navigare, il famoso passaggio a nord ovest. Quindi spinge in avanti le due navi con la forza del motore a vapore sul ghiaccio. Un mattino i marinai si svegliano intrappolati nel pack, in tutte le direzioni c'è soltanto ghiaccio, non c'è modo di andare avanti, non c'è modo di tornare indietro, le due navi sono bloccate. Passeranno lì completamente esposti tutto l'inverno successivo ed è una situazione molto difficile da immaginare, quei lunghi mesi di buio nel ghiaccio. Le latte di cibo e il carbone per il riscaldamento a quel punto iniziavano a scarseggiare, quindi è ragionevole supporre che siano stati razionati, ma credo che la cosa più spaventosa, più difficile da affrontare in quel momento, tenendo conto anche delle condizioni mentali precarie in cui si dovevano trovare i marinai a causa del piombo. Fosse proprio la paura. Il movimento del pack e delle creste genera degli autentici boati. Noi siamo istintivamente portati a immaginare un paesaggio artico come immobile e silenzioso, ma non è affatto così, è rumoroso, è terrificante. Il comandante Franklin verso giugno, quindi pochi mesi dopo, muore, non sappiamo in che circostanze, e assume il comando della spedizione Francis Crozier, che era il capitano della Terror. L'unica nota successiva lasciata sotto al Cairn dell'isola di Regulielmo per gli eventuali soccorritori è del 1848 ed è raggelante, lapidaria, recita il 22 aprile abbiamo abbandonato le navi. Ma cosa è successo e che cosa ha portato a quella decisione così drammatica? Nella primavera del 1848, dopo tre anni nell'artico, di cui uno nella morsa del ghiaccio, i marinai dell'Erebus e della Terror si rendono conto che i danni riportati dalle navi, dagli scafi a causa del ghiaccio, sono troppo ingenti e non permetterebbero alle due navi di riprendere il mare e di navigare, anche se miracolosamente quella primavera il ghiaccio si sciogliesse davvero. Quando le scorte di carbone e di cibo sono ormai ridotte all'osso, si fanno coraggio e scendono a piedi sul mare ghiacciato, dirigendosi a sud in direzione del fiume Buck in Canada. Tra loro e il più vicino insediamento occidentale ci sono centinaia di chilometri di marcia sferzata dal vento gelido e nessuno è mai arrivato. Cosa è successo durante quella lunga marcia e come sono morti gli ultimi sopravvissuti a quei tre inverni nell'Artico? Sappiamo qualcosa dalle testimonianze degli Inuit che negli anni successivi hanno ritrovato degli oggetti provenienti dalla spedizione e dei corpi e dai ritrovamenti fatti poi in anni più recenti, più moderni, dai ricercatori. Sappiamo che è stato scientificamente confermato l'avvenuto avvelenamento da piombo dei membri dell'equipaggio. Questa certezza arriva sia dall'analisi dei reparti biologici che anche da dei comportamenti tenuti dai membri dell'equipaggio che ci appaiono del tutto irrazionali. Per esempio sono un indizio in questo senso il tipo di scorte che portarono con loro in quella marcia perché gli uomini avevano deciso di trascinarsi dietro sul ghiaccio delle scialuppe di salvataggio. Questa non è una scelta irrazionale affatto, le scialuppe malgrado fosse una fatica bestiale trasportarle servivano per diversi scopi, intanto portare i viveri, le provviste e anche portare quelle persone troppo malate per camminare e soprattutto si sarebbero rivelato un aiuto fondamentale se avessero incontrato finalmente del mare aperto oppure un fiume navigabile. A bordo di quelle scialuppe c'era però una selezione di oggetti davvero inquietante e bizzarra tra cui per esempio fazzolette di seta, saponette, posate d'argento, spugne, pantofole, sigari, pettini, libri, oggetti di lusso del tutto inutili in quelle circostanze e che di sicuro aggiungevano un carico di peso inspiegabile per degli uomini già allo stremo delle forze. Perché portare con sé cose del genere? È stato ipotizzato che volessero utilizzarle come merce di scambio con gli inuit per farsi aiutare nel caso avessero incontrato degli insediamenti umani ma questi oggetti erano davvero tanti e quindi resta un'ipotesi valida anche l'idea che quella scelta sia stata fatta in preda agli effetti dell'avvelenamento da piombo quindi non pensando più lucidamente e salvando oggetti preziosi senza rendersi conto che in quella circostanza non erano preziosi. Analisi dei resti effettuate dagli antropologi forensi hanno poi confermato la presenza di dei tagli sulle ossa disposti in un modo che fa pensare che all'ultimo ci siano anche stati dei tentativi di atti di cannibalismo. Si ipotizza infine che parte del gruppo a un certo punto abbia deciso di interrompere la marcia e di cercare di tornare alle due navi per aspettare lì la fine in quella che per tre anni era stata la loro casa. Insomma il non sapere con precisione cosa ne fosse stato degli uomini di Franklin era forse più confortante del saperlo a essere onesti. Queste persone sono state sottoposte a una lunghissima sofferenza sia fisica che io credo soprattutto psicologica per almeno tre anni. Eppure il coraggio e la disperazione con cui hanno lottato per sopravvivere così a lungo in un ambiente del genere secondo me dice moltissimo delle risorse che abbiamo e che non sospettiamo di avere. Se io immagino gli uomini di Franklin nelle navi stritolate dal ghiaccio sotto a quel cielo buio immenso non vedo morte vedo vita vedo persone che si sono fatte forza fino all'ultimo senza abbandonare la speranza. Avevano più di mille libri da leggere a bordo e sicuramente gli ufficiali hanno mantenuto la disciplina e l'ordine finché è stato umanamente possibile. Venendo a quella che è l'analisi della storia l'aspetto più interessante di questa storia secondo me è il cambio di motivazione interna dei protagonisti. Ogni personaggio in una storia ha delle motivazioni interne che lo spingono o la spingono a compiere delle scelte. Nel caso degli uomini della spedizione Franklin che qui stiamo ragionando collettivamente anche se naturalmente in questo caso sarebbe molto più efficace una narrazione corale con i diversi punti di vista affrontano nel corso del loro viaggio un cambiamento in questa motivazione interna. Inizialmente la loro motivazione interna è il gusto dell'esplorazione il trovare il passaggio a nord ovest e a un certo punto diventa invece sopravvivere. La chiave di volta di questo passaggio è la terza primavera quando le navi rimangono intrappolate nel pack e diventa chiaro per tutti che l'obiettivo non è più diventare degli eroi ma è tornare a casa. La storia dell'erebus della terror era già nota al grande pubblico ai tempi. I giornali dedicarono ampio spazio alla vicenda e a quel mistero perché sì l'elemento di interesse centrale di questa storia era proprio il mistero che fine hanno fatto l'erebus e la terror. Un mistero che si è protratto in parte quasi fino ai giorni nostri. Come accennavo prima i relitti delle due navi per esempio non sono stati ritrovati fino agli anni duemila inoltrati quindi ci si chiedeva ancora che fine hanno fatto l'erebus e la terror. Questo giallo ha dato origine fin da subito alle narrazioni più disparate che si sono spalmate su praticamente qualsiasi forma d'arte dalla letteratura alla musica alla pittura. In un impressionante dipinto di Edwin Lancier del 1864 si vedono un paio di orsi bianchi che banchettano con parti umane accanto a pezzi del relitto. Il titolo è L'uomo propone Dio dispone. Al centro c'è sempre il concetto di hubris la sfida dell'uomo nei confronti del divino. Nota di costume i contemporanei accusarono il pittore di essere stato di cattivo gusto nella scelta del soggetto ebbene sì il too soon esisteva già allora. Probabilmente qualcuno dall'altra parte avrà commentato qualcosa tipo eh bellistà se la sono andata a cercare o roba del genere. Voglio ora soffermarmi su un altro personaggio che forse ci è sfuggito un attimo da sotto gli occhi ma che ha avuto un ruolo fondamentale in questa storia ovvero Lady Franklin la moglie di Sir John. Lei era una viaggiatrice e una filantropa una donna instancabile che non si è fermata un attimo fino agli 80 anni e che soprattutto non ha mai accettato la fine del marito. Ha bussato alla porta di chiunque per organizzare delle spedizioni di soccorso e quando anche il cordone dell'ultima borsa si è chiuso le ha finanziate lei per anni. Anche quando le è stato tristemente chiaro che il marito non sarebbe mai tornato a casa lei ha continuato a finanziare le spedizioni successive per la mappatura del passaggio a nord ovest. il suo ruolo è stato fondamentale nella storia delle esplorazioni geografiche in quel periodo ha dato davvero un contributo importante sia motivazionale che economico e se è vero che a bordo dell'erebus della terror non c'erano donne questa donna in questa storia va sicuramente ricordata. Se vi interessa approfondire la storia dell'erebus della terror io vi consiglio il saggio di michael palin che trovate qui sotto nell'info box e sì avete capito bene proprio michael palin quello dei monty python l'ha scritto lui non è uno scherzo e il suo saggio si concentra soprattutto sulle esplorazioni precedenti quelle in antartide ma è molto utile per approfondire il tipo di tecnologia che c'era a bordo delle due navi e in generale la loro storia. Se invece vi interessa di più l'aspetto di storytelling non posso che consigliarvi il romanzo the terror di ten simmons che trovate anche su qui sotto e che è stato uno dei miei romanzi preferiti degli ultimi anni e voglio chiudere il video parlandovi proprio di questo libro perché secondo me ci sono degli elementi davvero interessanti. È un'opera fiction basata sulla storia vera che vi ho appena raccontato e nel romanzo di simmons gli uomini intrappolati sul pack si scontrano con una forza sovrannaturale una presenza demoniaca che ha le fattezze di un gigantesco orso bianco questo mostro questo leviatano decima gli uomini uno dopo l'altro nel lungo inverno artico e rappresenta quello scontro archetipico tra uomo e natura che però ha un interessante ribaltamento verso il finale perché si rivela uno scontro in cui non ci sono né vincitori né vinti ma solo distruzione da entrambe le parti e non vi spoilerò come perché è davvero bello e vi consiglio di leggerlo. È un colpo di coda secondo me geniale che aggiunge all'epica dell'esplorazione delle spedizioni di Franklin anche il tema contemporaneo della tutela dell'ambiente per la salvezza nostra e del pianeta che abitiamo grazie per avermi tenuto compagnia in questo primo appuntamento con tra il dire il mare tornate a trovarmi domenica prossima perché parleremo di quello che è a mani basse il naufragio più famoso della storia trovate questo podcast su youtube spotify spreaker apple podcast eccetera se l'avete trovato interessante mandatelo a qualcun altro e ciao grazie a tutti